Sui mercati continua la volatilità, la guerra tra Russia e Ucraina ovviamente impatta il sentiment degli investitori, ma questa settimana abbiamo il meeting della Federal Reserve. Cosa farà la banca centrale americana con i tassi USA? Quali saranno le conseguenze sui mercati finanziari? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. La prima carta è una carta verde, quindi rialzista. Andiamo su quello che è sempre stato considerato un pochettino un bene rifugio, quindi siamo sul dollaro, ma attenzione andiamo a comprare euro-dollaro, quindi una strategia rialzista. Sono molto d'accordo con quello che diceva prima Nicola. Ti aspetti delle sorprese da parte della Fed domani? Ma guarda, più che da questo io credo che nelle prossime settimane barra mesi si innescherà un processo di avversione al dollaro in qualche modo, dovuto al fatto che sono tantissimi gli stati emergenti che cominceranno a chiedersi se è giusto continuare ad utilizzare il dollaro, visto che in un certo senso i famosi oligarchi e la Russia stessa sono un po' ostaggio ora di questa valuta che di fatto gli è stata completamente bloccata. Quindi io credo che in qualche modo ci sarà una disaffezione nei confronti del dollaro che porterà nel lungo termine poi a una dedollarizzazione dell'economia. Detto questo credo che domani... Mi stai dando un assist non banale perché nei famosi cassetti che si tirano e si aprono durante una diretta ecco che per esempio l'accordo fatto ieri dall'India con la Russia per l'acquisto del prezzo del petrolio a prezzi ridotti verrà regolato in Wuhan, quindi la valuta cinese. La Cina stessa che fino a poco tempo fa prima dello scopo della guerra comprava il petrolio pagandolo in euro e si dice che è molto fastidio questo ad esse agli Stati Uniti, adesso proprio per le sanzioni andrà acquistare questo petrolio anche lei in Wuhan. E forse è vero che nel cambio normale che vi sia perché vi è una staffetta alla guida del mondo fra Cina e Stati Uniti questo che stai dicendo potrebbe davvero essere un elemento non banale in più mi viene da dire che può essere una risposta anche alle sanzioni Luca perché pensiamo non solo agli oligarchi ma anche quella Cina che è stata un po' messa a spalla al muro ieri dagli Stati Uniti potrebbe decidere di far sentire la sua moral suasion chiamiamola così andando a rafforzare l'euro nei confronti al dollaro. Esatto, è esattamente quello che mi aspetto e credo appunto che questa mossa diciamo delle sanzioni da parte degli Stati Uniti se in un momento in un primo momento sono state sicuramente applaudite da un po' tutto il mondo alla lunga porteranno chiaramente delle conseguenze. E allora da un punto di vista operativo dove hai deciso di posizionarti per questo tuo long? Un ingresso a 1.0950 con uno stop loss abbastanza stretto a 1.09 e un target a 1.11. Un target anche bello ambizioso mi viene da dire soprattutto se confrontato al livello di stop qui com'è la posizione degli istituzionali? È cambiato qualcosa negli ultimi giorni? No, no, non ci sono particolari movimenti gli istituzionali sono abbastanza attendisti in questo momento da questo punto di vista. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading. Grazie a tutti.